L'orniturinco, uno strano animale radiofonico. Salute! E dentro l'orniturinco Mario Calvagno, Carmen Zammataro. Giovedì 11 marzo, giornata mondiale del Rene 2021, vivere bene con la malattia renale. Salute dei reni per tutti e ovunque. E promossa nel nostro paese dalla Fondazione Italiana del Rene Onlus e dalla Società Italiana di Nefrologia. Per parlarne abbiamo con noi in collegamento il professor Loreto Gesualdo, presidente FIR, Fondazione Italiana del Rene Onlus. Benvenuto professore, grazie di essere all'orniturinco. Grazie per l'invito. Grazie. E abbiamo anche il dottor Mario Salomone, segretario SIN, Società Italiana di Nefrologia, direttore nefrologia e dialisi ASL Torino 5 a Chieri. Benvenuto anche a lei, dottore. Grazie per l'invito. Grazie. Allora, intanto, professor Gesualdo, di cosa si occupa la FIR, la Fondazione Italiana del Rene Onlus? La Fondazione Italiana del Rene si occupa in modo particolare di quelle che sono tutte le problematiche che affliggono oggi i pazienti affetti da malattia renale cronica e in modo particolare anche della ricerca nel campo delle malattie renali. Ma in modo particolare punta tantissimo il dito sulla prevenzione perché la malattia renale cronica, pur essendo una malattia criptica e silente, può essere diagnosticata in maniera precoce, può essere prevenuta e oggi può anche essere curata. Benissimo. A proposito di inquadrare le varie attività, allora chiediamo anche al dottor Salomone le attività appunto della SIN, che è una società scientifica, quindi ha delle attività mirate proprio in questo settore. Prego, dottor Salomone. Sì, la SIN è la società italiana di nefrologia e sicuramente proprio nel suo statuto contempla praticamente la definizione degli aspetti anche politici e amministrativi, diciamo così, del nefrologo in Italia. La SIN è una società scientifica, quindi si occupa di ricerca in accordo anche con la FIR, con la Fondazione Italiana del Rene. Questo è quello che vogliamo sempre più stringere, far diventare sempre più fattiva questa cosa, proprio per sviluppare ricerca e andare di nuovo nel discorso che faceva già prima il professor Gesualdo, soprattutto puntare sulla prevenzione e una riorganizzazione anche della rete territoriale, che come abbiamo visto anche in questa pandemia è stata molto carente per il problema infettivo logico, ma non solo. La prevenzione si fa sul territorio in accordo stretto con le nefrologie come punto di aggregazione. Quindi questi sono un po' gli aspetti anche politici che ci legano a valutare la riorganizzazione delle nefrologie nell'ambito del piano nazionale cronicità, facendo un percorso diagnostico-terapeutico che leghi sempre di più il territorio e l'ospedale in quest'ottica preventiva. Bene, ritornando allora alle attività della giornata che abbiamo presentato, professor Gesualdo, quali sono queste attività, viste le difficoltà accese dalla pandemia? E purtroppo la pandemia ha ridotto notevolmente le attività in presenza, come si può ben immaginare, ma la FIR insieme alla SIN hanno predisposto un piano di attività molto ricco. Questo anche grazie alla collaborazione che abbiamo con l'International Federation of Kidney Foundation, perché ricordiamo ai radioascoltatori che si festeggia la giornata mondiale del rene, per cui saremo tutti in rete. La prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo raccolto con un questionario quelli che sono i bisogni e le aspettative dei nostri pazienti affetti da malattia renale cronica e in più anche quelli che sono i problemi del vivere con una malattia renale cronica, perché lo slogan, come lei ha detto, quest'anno è vivere bene con la malattia renale cronica. Questi dati saranno presentati in corso di una diretta streaming che avremo sui canali social, quindi che coinvolgerà tutte le nefrologie italiane, in cui essenzialmente si presenterà qual è lo stato dell'arte della malattia renale cronica in Italia e in modo particolare, con un occhio particolare ai nostri pazienti, visti come persone e non come numeri. Quindi domani avremo dalle 18 alle 20 questa diretta streaming che si chiama Sereni Insieme, dove saranno trattati tre argomenti importanti. Il primo, i vaccini. A che punto siamo? Quando partiremo con le nostre categorie di soggetti fragili. Due, stili di vita che servono a fare prevenzione delle malattie renali croniche. Tre, vivere bene con la malattia renale cronica. Avremo come testimonial la presenza del colonnello Carlo Calcagni, che è il simbolo della resilienza nel corso di malattie croniche. Infine, quello che ha fatto la Fondazione Italiana di Derrine, grazie al grande contributo della Società Italiana di Nefrologia, che ha messo a disposizione la squadra dei suoi nefrologi, abbiamo attivato un numero verde di utilità pubblica, che ricordo ai radioascoltatori essere l'800, 822, 515, dove i nostri esperti nefrologi, in collaborazione con i dietisti e gli psicologi, sono pronti a rispondere, saranno pronti anche nei prossimi giorni, a rispondere alle domande dei nostri pazienti affetti da malattia renale cronica. Molto interessante, molto interessante veramente. Allora passerei al dottor Mario Salomone. La giornata è ormai in vigore da molti anni. Riscuote di norma l'interesse dei pazienti e dei nefrologi? Riesce insomma a realizzare lo scopo per cui è nata, dottore? Sì, è un momento importante in cui anche lo stesso nefrologo sostanzialmente si rende conto dell'importante lavoro che fa. Già solo questo è fondamentale, perché ogni tanto nella routine quotidiana si perde anche l'importanza del lavoro nel senso della prevenzione che stai facendo. Quindi già questo è importante. Secondo me c'è una buona risposta da parte dei pazienti, che come giustamente ha detto il professor Gesualdo, devono essere sempre più considerati persone che interagiscono con il nefrologo e con tutto l'equip che si occupa di loro per quanto riguarda i pazienti in dialisi, ma anche i pazienti nefropatici non ancora in dialisi, i pazienti trapiantati. Sicuramente è un momento importante che si deve poi tradurre in iniziative molto interessanti come quelle che ha evidenziato il professor Gesualdo. Gesualdo, noi dal punto di vista nostro abbiamo già fatto un webinar a cui ha partecipato anche il professor Gesualdo, assieme ad alcuni senatori della Repubblica, in cui abbiamo riaffermato l'importanza di nuovo degli aspetti preventivi, che si è tenuta l'8 marzo scorso e che si può trovare in diretta su Facebook e di nuovo domani faremo un momento, l'esperto risponde sempre in diretta su Facebook, in cui sarà presente sia un nefrologo dell'adulto, sia un nefrologo pediatra per rispondere direttamente alle domande sia di pazienti che vogliano porre domande sui vari aspetti della nefrologia, perché la nefrologia è veramente un universo che si occupa di molte cose e sostanzialmente è quello che il professor Amerio definiva l'intervista più importante nell'ambito della medicina, perché sa anche mettere gli accendi proprio sulla prevenzione del danno e questo andrà sempre più sottolineato e fattivamente operato. Professor Gesualdo, quale funzione riveste il nefrologo? La funzione del nefrologo è una funzione fondamentale, innanzitutto dobbiamo ricordare a tutti i radioascoltatori che il nefrologo è lo specialista che si occupa delle malattie renali, molte volte non siamo conosciuti, il grande pubblico conosce benissimo il cardiologo, conosce benissimo il diabetologo, conosce benissimo il neurologo, ma la figura del nefrologo è sempre stata in sordina, forse perché la nefrologia e quindi i nefrologi sono stati assenti sul territorio. Ora la nefrologia si sta aprendo molto, sta uscendo dall'ospedale, sta raggiungendo il territorio, perché come abbiamo detto all'inizio è una patologia molto frequente, colpisce il 10% della popolazione mondiale, questo perché? Perché le patologie che più frequentemente si complicano con una malattia renale sono rappresentate dall'ipertensione, dal diabete e dall'obesità, ed ecco che il nefrologo si occupa di queste patologie che si complicano con un danno renale. Però attenzione, non facciamo solo malattia renale cronica, il nefrologo è chiamato ad intervenire anche in momenti di criticità, di acuzia, nell'insufficienza renale acuta, in questo momento di pandemia del Covid siamo stati molto coinvolti, in modo particolare nelle rianimazioni e nelle semi intensive, dove purtroppo i pazienti Covid si sono complicati con un danno renale. E poi il nefrologo svolge una funzione fondamentale che è quella di prevenire l'evoluzione del danno. Quindi noi, mentre la medicina di famiglia interviene in prevenzione primaria, cioè evita l'insorgenza di ipertensione, di diabete e di obesità, noi come nefrologi interveniamo sulla prevenzione secondaria, evitiamo laddove il paziente affetto da queste patologie ha sviluppato un danno renale, cerchiamo di limitare i danni intervenendo con farmaci in grado di rallentarne la progressione. Oggi fortunatamente, dopo molti anni, il 2020 per la nefrologia è stato un anno formidabile perché finalmente abbiamo nel nostro armamentario terapeutico due nuove classi di farmaci che probabilmente miglioreranno l'evoluzione del danno e quindi rallenteranno la progressione del danno verso quella parola che noi nefrologi non vogliamo pronunciare, che è la dialisi e pronunciamo con molta più sicurezza il trapianto. Ma noi vorremmo, il nostro sogno nel cassetto, il sogno nel cassetto del nefrologo è avere un mondo senza dialisi. Certo. Dottor Mario Salomone, nell'ambito del rene, a maggior ragione forse che rispetto ad altri organi, la prevenzione e la diagnosi precoce sono realmente molto importanti? Ci sono dei segnali di allarme? Come si può scoprire una malattia renale? Allora, come ha già detto il professor Gesualdo, ci sono certe categorie di pazienti in cui va fatta la prevenzione primaria sull'ipertensione, sull'obesità, soprattutto infantile che sta diventando, soprattutto in certe parti del mondo, ma anche in Italia, un po' una piaga. Questa rappresenta una prevenzione primaria perché questa si può complicare. Soprattutto questi pazienti diabetici ed altri e soggetti affetti da altre patologie cardiovascolari devono essere particolarmente seguiti da parte del medico di medicina generale a cui va insegnato e va insegnato a tutta la popolazione che un banale esame urine per valutare la presenza di proteinuria o altre alterazioni del sedimento urinario e il dosaggio della creatinemia sono sufficienti il più delle volte come campanello di allarme per inviare poi allo specialista nefrologo il paziente e lo specialista nefrologo dovrà inquadrare il paziente nella sua patologia e dare quelle indicazioni che permettono di rallentare la progressione del danno renale. Oggi come diceva il professor Gesualdo abbiamo altri potenti mezzi che sono entrati prima in uso dai diabetologi ma spero presto avremo a disposizione anche noi nefrologi per rallentare il danno e la progressione del danno nel paziente renale. Oltre a questo bisogna insegnare al paziente il più delle volte a mangiare in maniera corretta, a controllarsi la pressione a fare un'attività fisica regolare che il più delle volte possono soprattutto in queste patologie, ipertensione, obesità eccetera possono rallentare. Poi c'è la classe, l'esame urine può mettere diciamo accendere una luce, un campanello di allarme su altre patologie più rare ma che esistono e che il nefrologo è in grado di trattare che sono le glomerulonefridi, cioè delle infiammazioni del parenchima renale causate in genere da meccanismi di tipo immunologico e quindi il nefrologo in questo senso oltre ciò chiaramente può intervenire con delle farmacologie nuove sempre più nuove e dopo magari la biopsia renale e poter quindi rallentare la progressione o bloccare addirittura in questi casi la progressione della malattia. Bene, Professor Gesualdo, quali sono i rischi in rapporto al Covid per i malati nefropatici? I nostri pazienti nefropatici vengono considerati pazienti fragili quindi sono più esposti al rischio di infezione in quanto sono pazienti, per esempio gli emodializzati che vengono trasferiti da casa al centro dialisi alcune volte con mezzi di trasporto che possono diventare si stessi una causa di infezione ma sono pazienti che presentano anche una riduzione delle difese immunologiche quindi più esposti al contagio tra l'altro su questo sicuramente il dottor Salomone potrà aggiungere molto in quanto la società italiana di nefrologia ha censito la seconda ondata epidemica e quindi sicuramente ha dati freschi da presentare dati che sta analizzando la società italiana di nefrologia in questi giorni quindi sicuramente i nostri pazienti affetti da malattia renale cronica hanno un più alto rischio di contagio Certo, e allora chiediamo proprio al dottor Salomone qual è la risposta immunitaria dei diversi vaccini per esempio nei pazienti nefropatici? Sì, inizio appunto dicendo per concludere quello che diceva il professor Gesualdo che abbiamo avuto due survey è una prima survey diciamo nel periodo febbraio-aprile 2020 e una seconda survey che è cominciata ad ottobre proprio su questo aspetto e terminata alla fine di febbraio le evidenze maggiori di questa survey sono queste nella prima ondata avevamo una prevalenza relativamente bassa di pazienti affetti che sono stati contagiati dal virus 3-4 circa per cento della nostra popolazione dialitica è stata contagiata dal virus per quanto riguarda i pazienti ospedalieri che come giustamente diceva il professor Gesualdo hanno momenti purtroppo di aggregazione legati alla stessa terapia che fanno 3 volte alla settimana 3-4-5 ore di trattamento dialitico 3 volte alla settimana una prevalenza inferiore c'è stata tra i pazienti in dialisi domiciliare e una prevalenza ancora inferiore 0,87% c'è stata nei pazienti trapiantati nella seconda ondata il quadro è completamente cambiato nella prima ondata questi dati erano prevalentemente sostanzialmente legati come sapete tutti anche nella popolazione generale alle regioni del nord nella seconda ondata abbiamo avuto una prevalenza molto maggiore che è arrivata quasi al 12% nei pazienti in emodialisi al 6% nei pazienti in dialisi domiciliare peritoneale circa al 4-9% nei pazienti trapiantati quindi una diffusione molto maggiore e la mortalità è sicuramente l'altro aspetto da considerare importante perché questi pazienti si ammalano di più per il problema del sistema immunitario per questi momenti di aggregazione che purtroppo ci sono e di cure continuative però muoiono anche di più muoiono molto più di 10 volte rispetto alla restante popolazione quindi noi abbiamo avuto un 30% di mortalità nella prima ondata e un 20-21% nella seconda ondata quindi sono pazienti fragili anche nella risposta poi al virus che li aggredisce più facilmente la sua domanda riguardava il problema dei vaccini anche sui vaccini non ci stiamo muovendo perché pensiamo che la risposta corretta anche qui di prevenzione se volete è il vaccino il vaccino che sostanzialmente sapete le difficoltà che ci sono adesso nella vaccinazione ma proprio la società italiana, la FIR si sono mosse per ribadire il concetto della fragilità dei nostri pazienti e quindi la necessità di vaccinarli al più presto possibile e sono adesso in corso le vaccinazioni dei nostri pazienti in dialisi la SIN ha promosso uno studio su tutti i centri che vorranno aderire allo studio assieme all'Istituto Superiore di Sanità e assieme ad AIFA per valutare la risposta in questo gruppo di pazienti alle vaccinazioni sia in termini di efficacia sia in termini di sicurezza Professor Gesualdo, ci sono regole specifiche che i pazienti nefropatici possono seguire per una maggiore prevenzione dal Covid? Sono le stesse che tutti quanti noi dovremmo seguire innanzitutto indossare correttamente i DP quindi mascherina in particolare siccome i nostri pazienti sono particolarmente fragili quello che consiglio è una FP2 lavare frequentemente, igienizzare frequentemente le mani e mantenere il distanziamento un'altra regola che abbiamo insegnato ai nostri pazienti in modo particolare ai pazienti che utilizzano mezzi di trasporto utilizzare il mezzo di trasporto in maniera opportuna abbiamo chiesto anche ai nostri trasportatori di trasportare un paziente per volta perché molte volte abbiamo notato che la contaminazione può avvenire all'interno di questi mezzi quindi le regole che tutti quanti noi in questo momento stiamo osservando dovrebbero garantire una riduzione una riduzione dei contagi certo bene allora ricordiamo giovedì 11 marzo giornata mondiale del Rene 2021 vivere bene con la malattia renale salute dei reni per tutti ovunque e promossa lo ricordiamo anche nel nostro paese dalla fondazione italiana del Rene Onlus e dalla società italiana di nefrologia abbiamo sentito ci sono durante la giornata delle attività social molto particolari e molto interessanti per cui maggiori informazioni le potrete reperire sui rispettivi siti fondazione italiana del Rene.org e poi anche sinitali.org salutiamo e ringraziamo il professor Loreto Gesualdo presidente FIR fondazione italiana del Rene Onlus il dottor Mario Salomone segretario SIN società italiana di nefrologia direttore di nefrologia e dialisi ASL Torino 5 Chieri professore e dottore grazie mille ancora e a risentirli grazie a voi grazie 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 buon lavoro grazie grazie l'ornitorinco uno strano animale radiofonico salute grazie a tutti 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 grazie a tutti